Ghiotto appuntamento per le aziende italiane del gioiello, la quattordicesima edizione del workshop Oro Arezzo New York Trade Show, l'importante iniziativa di business promossa da Arezzo Fiere Congressi che vedrà nella grande mela la presenza di 24 aziende orafe italiane, 18 saranno di Arezzo, 6 proverranno dal distretto orafo di Vicenza. Due giorni di incontri faccia il 2 e il 3 novembre nel distretto del gioiello di New York in una prestigiosa sala del Millennium Broadway Hotel in Times Square. Dopo i successi delle scorse edizioni Arezzo Fiere è riuscita a organizzare la presenza nella grande mela di importanti buyers, oltre 130 tra grossisti, catene di negozi e network tv commerciali provenienti da New York, Miami, Los Angeles e anche dal Canada e dalla Gran Bretagna. Per citarne alcuni Piercing Pagoda, Zail, Blooming Dales, Ellsberg Diamonds, Quality Gold, Midas e molti altri come Metro Gold e Simbad. Aziende con un volume d'affari di miliardi di dollari che scommettono sul Made in Italy. New York diventa ancora una volta la cornice ideale per presentare le nuove proposte e le novità delle collezioni ai buyers che saranno protagonisti degli incontri business to business in questa densa due giorni. In un anno molto difficile gli USA hanno segnato un più 35% di export da Arezzo, una buona premessa per un altro proficuo appuntamento per le nostre aziende.